quindi iniziamo con la terza parte del nostro itinerario natalizio a New York con la parte più meridionale di Manhattan. Ieri ci siamo fermati al Washington Square Park e oggi iniziamo a scendere verso appunto la parte meridionale dell'isola. Qui la situazione inizia a farsi un pochino ingarbugliata perché per chi non fosse mai stato a New York ve lo dico le strade non sono più incrociate perfettamente quindi a quadrati ma cominciano veramente a grovigliarsi tra di loro infatti questa è la parte più vecchia della città e quindi ha un'impronta meno strutturata. Quindi andiamo un po' a saltoni di qua e di là e cerchiamo comunque di trovare le migliori decorazioni di Lower Manhattan. Partiamo da est perché sull'East River si affaccia una zona che si chiama Seaport District che è stata recentemente completamente ristrutturata. Io l'ho vista molti molti anni fa nella sua versione più vecchia poi sono capitata nel periodo in cui era una zona praticamente morta e non c'era nulla infatti super delusione perché non abbiamo trovato niente da vedere mentre adesso la zona è stata riqualificata e è vivace più che mai. Cosa c'è qui? Qui c'è un albero ovviamente abbastanza grande non gigantesco ma un'atmosfera spettacolare perché è la zona dei vecchi moli di Manhattan quindi ci sono tutti questi pier come li chiamano loro dove si possono trovare ristoranti negozi piccoli piccole gallerie d'arte insomma si trova veramente un po' di tutto per trascorrere delle ore in tranquillità in una zona ormai abbiamo capito che se c'è un albero di Natale molto probabilmente lì vicino ci sarà anche che cosa? Ovviamente una pista da pattinaggio perché a quanto pare i new yorkesi hanno questa mania del pattinaggio e noi ne approfittiamo. Quindi albero di Natale e pista da pattinaggio dove poter scorrazzare e prendere anche delle belle culate cadendo inesorabilmente. Cos'ha di particolare questa pista da pattinaggio? Ovviamente il suo intorno perché qui è una cosa stratosferica. In pratica voi vi trovate con lo skyline di Manhattan si vede anche l'Empire State Building ma quello si vede un po' da dappertutto. Comunque avete lo skyline di Manhattan, l'East River davanti quindi è una pista da pattinaggio affacciata praticamente sul fiume e poi il ponte di Brooklyn. Quindi voi pattinate con sullo sfondo tutto il ponte di Brooklyn illuminato e devo dire che scusate una location del genere io vorrei sapere dove la trovate. Penso sia forse la pista da pattinaggio che effettivamente vale di più la pena però anche le altre non sono male. Vabbè insomma pattineremo un sacco cosa volete che vi dica. Spostiamoci verso il cuore pulsante del Financial District allo Zuccotti Park, un altro parco perché ce ne sono veramente tanti, molto piccolino devo dire e dove non ci sono grandi distese di non so erba o cose varie. Questo è più che altro cementato e con tantissime panchine. Ci sono però piantati tutti molto ordinati degli alberelli non enormi che vengono completamente illuminati ramo per ramo durante il periodo natalizio quindi qui è un'atmosfera super instagrammabile con tutte le luci veramente molto bello ovviamente grattacieli a rotta di collo tutto intorno e un'atmosfera molto tranquilla molto calma perché appunto è un parco un po' particolare però secondo me ne vale veramente la pena anche perché siete vicinissimi alla Trinity Church all'Oculus al World Trade Center alla Freedom Tower quindi una zona veramente strategica voi arrivate vi piazzate lì sulle panchine facciamo un po' di foto perché ho detto voi arrivate poi facciamo un po' di foto perché effettivamente ci sono anch'io quindi è una cosa che facciamo insieme quindi facciamo un po' di foto sotto tutte queste stelle tutte queste luci di questi alberelli io sì lo faccio. Andiamo finalmente a Wall Street una via che vediamo praticamente tutti i giorni nel reparto borsa del reparto nel momento borsa del telegiornale Wall Street che non è una strada enorme quindi riponete le vostre grandi ambizioni su questa strada che non è niente di che però durante Natale ci mettono un albero fantasmagorico bellissimo con sotto la menorà anche questo qui veramente su proprio la sede della borsa viene illuminata nelle sue colonne con i colori del Natale quindi rosso e verde quindi vi trovate la facciata tutta illuminata questo albero che è proprio piazzato in mezzo alla strada tanto è una strada pedonale non c'è traffico quindi l'albero piazzato in mezzo alla strada e si possono fare un sacco di foto da diverse prospettive in modo da riuscire a prendere tutti gli elementi quindi direi molto scenografico e siccome appunto è tranquillo non c'è traffico si può stare lì senza problemi a me piace molto spostiamo solo di qualche strada e arriviamo alla zona del World Trade Center quindi dove una volta c'erano le torri gemelle e ora è tutto stato ricostruito in maniera a mio parere eccellente qui si trova l'oculus che vi ho nominato anche prima che è quella gigantesca copertura bianca che da fuori può sembrare una colomba con le ali aperte ma in realtà ha una forma di occhio e che è stata architettata veramente in tutti i sensi da Calatrava questa copertura copre la stazione più grande della metropolitana e dei treni di New York un vero snodo ferroviario enorme ovviamente cosa ci hanno fatto oltre che la stazione anche un centro commerciale che solitamente durante il periodo invernale ospita al suo interno dei mercatini di Natale che però quest'anno non sono proprio stati allestiti ovviamente sono stati sospesi in questo dedalo tra stazione e negozi si arriva al Brookfield Place Winter Garden che è più difficile da dire che da capire cos'è in pratica una parte di questo centro commerciale adibita molto anche a bar alla ristorazione con una piazza al coperto piena di palme bellissime altissime quindi un vero giardino invernale per questo si chiama Winter Garden dove vengono installate delle lanterne illuminate sono 650 lanterne e viene chiaramente montato anche qui un grandissimo albero di Natale quindi la figata di questo posto è che si ha l'albero di Natale illuminato tutte le lanterne sopra che coprono tutto il soffitto e tutte queste palme che svettano in un'atmosfera che fa un po' tropici un po' Nord Europa Natale quindi un po' un miscuglio veramente veramente interessante ancora più particolare è la vetrata di questo Winter Garden che si affaccia sulla baia di Manhattan e in lontananza si vede anche la Statua della Libertà uscendo da questa vetrata io credo possiate immaginare che cosa si trova proprio lì su questa piazzetta antistante una pista da pattinaggio esatto quindi un'altra pista da pattinaggio con anche qui una visione pazzesca perché vi trovate praticamente la Freedom Tower con tutti i grattacieli del Financial District alle vostre spalle e davanti la baia con la Statua della Libertà che vi guarda mentre pattinate ocio una piccola parentesi che vorrei sottolineare prima del viaggio a New York durante il periodo natalizio io direi che ci sta un bel corso di precistica perché con tutte queste piste da pattinaggio e tutti questi exploit sportivi secondo me ce n'è di bisogno terminiamo qui la terza parte dell'itinerario natalizio new yorkese domani risaliamo la sponda ovest dell'isola di Manhattan lungo Lutton River e andiamo a vedere qualche altro posticino soprattutto di shopping e vi voglio parlare anche di alberghi che hanno degli alberi stratosferici quindi rimanete sintonizzati tra l'altro vi ringrazio per l'affetto che mi state dimostrando e per l'interesse che veramente non pensavo di poter scaturire su New York e su tutte queste cose che vi sto raccontando mi state facendo anche tante domande e sono contentissima di rispondervi sono contenta perché vi vedo appunto curiosi e desiderosi di sapere e soprattutto desiderosi di partire presto grazie a tutti grazie a tutti